ciao a tutti oggi voglio condividere con voi qualcosa di davvero speciale momenti che mettono in risalto il legame meraviglioso tra una mamma e il suo bambino tuffiamoci insieme in questi ricordi che scaldano il cuore immaginatevi una mamma che abbraccia il suo bambino stringendolo forte con tutto l'amore del mondo è uno di quei momenti in cui il tempo sembra fermarsi e l'unica cosa che conta è quella preziosa connessione si può quasi percepire il calore che emana dal loro abbraccio come una coperta accogliente in una giornata fredda passiamo ora a una scena che molti di noi conoscono bene una mamma e il suo bambino che condividono un momento speciale insieme magari stanno giocando a qualcosa di divertente leggendo una favola della buonanotte o semplicemente seduti in un silenzio confortevole godendosi la reciproca compagnia sono questi momenti quotidiani quelli che catturano davvero l'essenza dell'amore e della gioia si vedono i sorrisi gli occhi scintillanti si sente il riso che riempie la stanza e pura magia e poi c'è quello sguardo sapete di quale parlo il modo in cui una mamma guarda il suo bambino con tanto amore e orgoglio è come se vedesse una vita di ricordi scorrerle davanti agli occhi dai primi passi alle prime parole a tutte le tappe che hanno plasmato il loro percorso insieme è una sensazione bellissima e nostalgica che vi tocca il cuore infine concludiamo con un ultimo abbraccio una mamma e il suo bambino che si abbracciano ancora una volta come per dire che qualunque cosa accada il loro amore resisterà sempre alla prova del tempo è un amore infinito incondizionato che non conosce confini mentre guardiamo il sole tramontare su un paesaggio sereno ricordate questo il legame tra una mamma e il suo bambino è una delle forze più potenti al mondo è un amore che ci forma ci nutre e resta con noi per sempre grazie per aver celebrato con me questi momenti speciali fino alla prossima volta apprezzate ogni abbraccio ogni sorriso e ogni momento di tenerezza con i vostri cari bedamatri celebriamo l'amore infinito e incondizionato di una mamma abbiate cura di voi a presto